Ciao, io sono Gianfranco di Vicenza. Sono in questo momento a Chisinau per un controllo dopo aver messo i definitivi. Trascorso quasi un anno e tutto va a meraviglia. Non ho avuto problemi. Sono completamente soddisfatto del lavoro svolto e devo ringraziare ovviamente tutto lo staff medico, chirurghi, ovviamente senza tralasciare la disponibilità delle persone che ti seguono giornalmente, dalla logistica ai fotografi, giustamente anche loro fanno una gran parte del lavoro. Come ripeto, sono contentissimo. Ho portato con me altre persone che altrettanto sono contente e continuo ad avere contatti di persone che mi chiedono della clinica SOS perché si sono resi conto di quanto bene lavorano. Dopo un anno ovviamente il lavoro fatto ti cambia sicuramente la vita. Se approccio con le persone che nel mondo del lavoro e sorridere ovviamente è una cosa meravigliosa. Rispetto a prima giustamente le cose sono cambiate, ti avvicini e ti confronti con le persone in modo completamente diverso. In effetti il lavoro che ho richiesto è stato fatto a regola d'arte con i complimenti ovviamente di tantissime persone. La richiesta di venire a Kisinau presso la clinica SOS mi risulta sempre più frequente. Lo consiglio a tutti, lo consiglio vivamente a tutti perché c'è modo comunque di riprendersi un po' quella vita che prima ti mancava. Quello è sicuro. Io ho scelto la linea superior perché a mio parere sono i più belli in assoluto. Sono veramente contento. Sono naturali? Sì, sono molto naturali. Sembrano veramente i tuoi e ciò ti fa sentire più a tuo agio. In effetti anch'io avevo una preoccupazione di sentire un corpo estraneo in bocca, di non saperlo gestire. In realtà non si sentono proprio. È come se fosse un corpo unico della tua bocca. Sono leggerissimi. Ecco, bisogna avere giustamente un po' di cautela nella masticazione perché non si mai quanto una persona possa stringere, ma non ho l'impressione appunto che non si è mai stato fatto un intervento in bocca. Questo è vero? No, tanto contento. Veramente tanto contento. Grazie. È vero. È meraviglioso. Tu stai con il tuo fratello o qua? Ho due cugini, fratello e sorella, che appunto mi hanno contattato un anno circa fa perché vedendo le foto messe su Facebook, le vostre foto, hanno pensato bene di contattarmi e chiedere informazioni. Non ci hanno pensato tantissimo. Ho detto partiamo. Adesso hanno quasi finito i lavori e sono anche loro contenti. Ti dirò che il primo approccio con la clinica l'ho avuto tanti anni fa tramite la pubblicità che è stata fatta e le informazioni che dava su Facebook. preciso che le informazioni che dà sono molto veritiere e ti dà la possibilità di andare a fondo nella questione. Per uno che magari è dubbioso, per uno che ha dei timori o paure, come tanti, magari è consigliabile anche chiamare qualcuno del gruppo per farsi dare indicazioni. Dico che è successo anche a me di ricevere telefonate da altri pazienti che volevano approcciarsi all'inizio dei lavori della clinica. Io ho consigliati perché giustamente è valida. È una soluzione valida per qualsiasi tipo di problema che uno abbia. La soluzione? I vari staff medico e chirurgo lo trovano sicuramente. Se qualcuno ascolterà questa conversazione o questa registrazione dico occhi chiusi partite e basta. Andate in una clinica SOS, lo faccio anche come pubblicità perché merita. Per me Kisinau piace tantissimo, mi trovo bene. Per me non posso dire nulla assolutamente. In effetti invece di fermarmi due o tre giorni solo per il controllo ho preferito farmi una settimana completa. Tanto per dire. La masticazione penso che sia una cosa personale e soggettiva perché ognuno di noi ha un modo di masticare diverso. Ovviamente si sente la differenza però con un attimo di attenzione si può mangiare qualsiasi cosa. Io dico qualsiasi perché ho mangiato un po' di tutto fino adesso. Non ho riscontrato nessun tipo di problema o di fastidio. Non ho mai avuto infezioni o altro. Certo che l'igiene personale della bocca deve essere fatta ad hoc. altrimenti non se ne va fuori. Si perde magari quei 10-15 minuti in più ma bisogna curarla fino in fondo. Questo ti porta ad avere un proseguo diciamo più lungo per il mantenimento delle varie arcate, dei vari denti. per non neanche appare in problemi seri. Io preferisco venire a Chisinau per i controlli. Anche se so che sono state aperte delle sedi giusto? Sì, perché confrontarmi con tutto lo staff medico locale è tutta un'altra cosa. Si, già non sai tutto. Si, so e sinceramente vista l'esperienza precedente con i vari dentisti italiani non sono più tanto così sicuro di rivolgermi a loro. Purtroppo in Italia se non cambia la mentalità non si va da nessuna parte. Si, non sei il primo. Mi dispiace, mi dispiace per loro però le persone che vanno all'estero a curarsi lo fanno per determinati motivi. In Italia ancora non ho capito che devono pensare più alle persone che ai soldi. Oh, per carità ci sono altri problemi a livello burocratici, a livello di tasse o altro. Però, come è successo, la mia conoscente se ne approfittano. Ti trovano cari e altri lavori da fare dove esattamente non ci sono. E questo lo do per certo perché testimonianze le ho. Lì ti fa capire la serietà dei vari dentisti italiani. Grazie. Grazie.